La Polizia di Stato e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza dalle prime luci dell'alba stanno eseguendo 39 misure cautelari per traffico internazionale di autoveicoli di provenienza illecita, riciclaggio, ricettazione, furto, incendio, truffa, falso, usura, spaccio di sostanze stupefacenti e commercio di armi. L'indagine ha avuto origine da una segnalazione del Servizio Polizia Stradale relativa ad un traffico internazionale di veicoli di provenienza illecita ed ha fatto emergere il coinvolgimento di vari personaggi operanti sul territorio italiano, i quali, grazie a consolidati legami con esponenti criminali dei paesi dell'est europeo, noleggiavano auto di grossa cilindrata, le ripulivano reimmatricolandere all'estero per poi commercializzarle. L'attività investigativa ha fatto emergere inoltre una vera e propria rete di spaccio agli stupefacenti, realizzata da numerosi soggetti, i quali, con frequenza quasi giornaliera, rifornivano un numero impressionante di consumatori prevalentemente giovani e adolescenti, con un giro di affari di circa un milione di euro. Le investigazioni hanno fatto emergere anche una serie di condotte usuraie, danni di 11 soggetti ai quali venivano praticati interessi annuali oscillanti tra il 120 e il 300%, richiedendo in garanzia e rilasciare i titoli di credito. Le vittime, piccoli imprenditori e persone fisiche, versavano in condizioni di grave difficoltà economica e quando non riuscivano a far fronte al pagamento del capitale o degli interessi, subivano atti di intimidazione da parte degli indagati. Nel corso delle indagini sono stati accertati anche numerosi episodi di truffe in danno alle compagnie assicurative. Attraverso la simulazione di incidenti stradali, infortuni e furti venivano ottenuti cospicui indiannizi assicurativi.